Eccoli! Piano piano! Adesso il video ancora non si vede bene perché è ancora lontano, sono qua giù, che si avvicinano. E iniziano a velocizzare. Dai! Hop hop! Su su! Chi c'è? Che buoni che sono! Non te la devi mangiare tu! Chi c'è qua? Spostati! Spostati un attimo! Chi c'è qua? Chi c'è qua? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Dammi la carota. Non un pezzettino minuscolo che mi mangia la mano altrimenti. Ecco l'altro. Dammi un'altra carota. Ehm. Ciao Mello! Ciao Mello! Ciao bellissimi! Gigi, cosa siete? Siete belli? Siete belli? Dami carota! Qué bellissimi si... Che bellissimi si... Che be reinsi... Check a picture here Carotta Carotta Ah, hai luce Ehi attiralo un attimo questo attirami un attimo questo carota un attimo carota 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 dai però dammene un pochettino se no te lo do ogni 20 millisecondi che c'è un macambio bella della lora sei un ingordo tu carota adesso non rispondono più a lui al fai storia vero che non risponde te più al passare vero che non risponde te più quello è un tubo cosa mi vuoi mangiare? la mano la mano mi vuoi mangiare devi lavare i denti con calma piano mastica mi fa ridere la faccia che fa mi fa ridere la faccia che fa cosa c'è? cosa c'è? ne hai un'altra? dammene un pezzetto contento? contento? si basta non è un pezzetto cosa c'è? che giaccia? non ne ho più carote ti do un po' di erbetta dai per far scendere le carote non è un po' di erbetta è un po' di erbetta che non è un po' di erbetta non è un po' di erbetta dai un po di erba perché la mamma daglielo anche a lui sta piangendo cioè sei proprio rimani a guardare a voi a voi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa c'entra? Questo si sta facendo coccolare, guarda. Tu sei più timido. Vieni. Vieni. Pronto? Vieni. 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 Alla prossima Vole a toccargli le orecchie. E' un'altra. E' un'umete l'acqua. ok